Ciao e benvenuto su PSINEL, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 134esima puntata di questo podcast. Puntata dedicata ad un argomento davvero vastissimo di estrema attualità e soprattutto un argomento dove molti pensano di sapere ma in realtà sanno poco. Mi sto riferendo al campo del pregiudizio. In questo periodo di attacchi terroristici, di grandi migrazioni, ho deciso di parlarti un po' di un tema limitrofo, un tema che non tocca direttamente questi due temi ma che li riguarda entrambi. Ne abbiamo già parlato perché è uno dei temi più studiati dalla psicologia sociale ed in generale dalla psicologia e dalle scienze umane. Appunto, il pregiudizio. Oggi lo vedremo sotto un punto di vista leggermente diverso e cercheremo di farlo rientrare un pochettino all'interno di quel mondo che chiamiamo crescita personale. Bene, iniziamo! Oh, allora, come stanno andando le vacanze? Se stai ascoltando questo podcast nella data della sua pubblicazione, probabilmente sei in agosto, alla fine delle nostre vacanze. Infatti, come probabilmente sai, la scorsa puntata, che doveva uscire il 15 d'agosto, non è uscita. Ogni agosto mi prendo la licenza di saltare una puntata. Allora, spero che queste vacanze siano andate alla grande e mi auguro che tu abbia un po' coltivato, continuato a coltivare tutti questi, potremmo chiamarli valori di psine, la presenza, l'apertura, la meditazione, la capacità di restare nel presente, il modo di comunicare con gli altri e quant'altro. Durante le vacanze abbiamo sia modo di riposarci, ma abbiamo anche modo di tirare un po' le somme di come ci sentiamo emotivamente quando facciamo una piccola pausa dai nostri impegni lavorativi. Come sempre, voglio ringraziare tutte le persone che seguono Psinel e che in questi mesi hanno continuato a mettere mi piace su iTunes, che si sono iscritte alla mia lista, che si sono iscritte alla mia fanpage per seguire le live. E soprattutto voglio ringraziare quel gruppetto di persone che continua a seguirmi su Snapchat. Chi è senza pregiudizio scagli la prima pietra, mi viene da dire. Quando ero all'università, il tema del pregiudizio mi ha colpito come una palata sui denti. Scoprire che tutte le persone, nel bene o nel male, in modo consapevole o inconsapevole, covano del pregiudizio, mi ha davvero sorpreso ed anche incuriosito. Brevemente, che roba è il pregiudizio? Il pregiudizio è un giudizio a priori. Qualcosa che assumi essere vero ancora prima di avere tutte le informazioni per poterlo verificare? Se ad esempio non hai mai mangiato il sushi e pensi che faccia schifo, magari per l'odore, magari per le tue esperienze passate, ecco questo è un bel esempio di pregiudizio. Ok? Molto chiaro, molto lineare. Ovviamente ci sono diverse interpretazioni del pregiudizio in base all'antropologia, alla filosofia. Ti linkerò tutto all'interno del quaderno degli esercizi. La cosa che però non tutti sanno è che questi schemi mentali, questi schemi, agiscono sempre, anche al di fuori della nostra consapevolezza, anche in questo momento. Magari è la prima volta che mi ascolti, o magari pensi di avermi ascoltato tante volte, di avermi sentito dire queste cose, presumi di conoscerle e magari fermi la registrazione. Ecco, se fermi la registrazione per questi motivi, sappi che lo fai sulla base di un pregiudizio e non di un giudizio vero e proprio, cioè ascoltandolo tutto e poi magari traendo le tue conclusioni. La nostra mente ha la necessità costante di etichettare ciò che la circonda. Questo perché dare etichette le permette di ordinare le cose e fare previsioni. E tra queste previsioni ci sono anche i nostri pregiudizi. Cosa ancora più sconvolgente è scoprire che tutti siamo affetti, chi più e chi meno, da forme di pregiudizio razziale. In un noto esperimento sono state fatte vedere persone con vario colore della pelle e poi è stato creato un test con dei tempi di reazione per vedere se questo dato, il colore della pelle, potesse o meno avere qualche effetto sugli schemi automatici di pensiero dei soggetti. E indovina, così è stato. Anche chi si dichiarava del tutto non razzista, anche chi aveva sposato una persona di colore, di etnia differente, aveva un piccolo effetto implicito del pregiudizio. Questa è la prova lampante che questi schemi si attivano al di fuori della nostra consapevolezza. Ne abbiamo già parlato in altri podcast e te li metterò tutti nei QDA. In altre parole, che tu pensi o meno di essere pregiudizievole nei confronti di una razza diversa dalla tua, sappi che in parte lo sei. Gli studi dimostrano quindi che tutti abbiamo questa tendenza, soprattutto quando siamo di fronte a gruppi distinti tra di loro. Cioè a gruppi etnie differenti tra di loro. Non solo gruppi etnie, ma anche squadre di calcio e quant'altro. Negli anni Sessanta uno psicologo sociale, Henri Tashfel, scopre un fenomeno particolare. Se suddividi due gruppi di persone prese a caso per un determinato particolare, ad esempio il colore degli occhi, e poi li fai gareggiare in una qualche competizione, questi tenderanno a sviluppare uno spirito di gruppo estremamente forte, anzi paradossalmente forte. Tanto da avvantaggiare troppo i membri del proprio gruppo appena conosciuti e svantaggiare i membri dell'altro gruppo. Fino ad escludere i membri dell'altro gruppo da altre interazioni, magari anche al di fuori di quell'esperimento. Esclusione che può arrivare fino a questi aspetti paradossali, tipo perdere del denaro pur di far vincere la propria squadra, oppure addirittura arrivare a mentire, a barare, pur di far vincere la propria squadra e svantaggiare la squadra avversaria. Sei mai giocato a calcetto? Sei mai giocato a calcio? Sei mai fatto qualche sport di squadra? Sai quanto è vero questo? Si arriva ad odiare la squadra avversaria anche se è del quartiere accanto a casa tua. Tashfel scopre un meccanismo abbastanza evidente. Il fatto che per dire di appartenere ad un certo gruppo ci si deve distanziare e distinguere da un altro gruppo. In psicologia questo fenomeno prende il nome di in-group ed out-group, proprio da Tashfel. Chiunque sia stato adolescente ed abbia provato ad inserirsi nei diversi gruppi di amici ha sperimentato più o meno un fenomeno simile. Allora, perché esiste questo fenomeno? Come mai tendiamo ad escludere le persone che sono fuori dal nostro gruppo e invece a includere tutte le persone che invece pensiamo a partenere al nostro gruppo come se fossimo più uguali a queste persone che non alle altre persone? Ancora una volta questo meccanismo sembra essere evolutivo infatti sappiamo bene che creare gruppo è ciò che ci ha permesso di sopravvivere. L'essere umano come animale è davvero debole non possiede tutto l'armamentario naturale degli altri animali pelliccia, artigli, denti, eccetera. Per questo motivo si è dovuto radunare in gruppi. Lo stesso meccanismo psicologico del pregiudizio si è evoluto per farci sopravvivere in questo modo e da tempo ti racconto di come durante la prima interazione il famoso effetto prima impressione è proprio un meccanismo simile ci creiamo un'immagine semiconpleta di chi ci sta di fronte è un meccanismo spontaneo che dovrebbe servirci per cercare di capire chi abbiamo davanti nel minor tempo possibile e soprattutto comprendere le sue intenzioni. Lo facciamo con la minima quantità di risorse cognitive possibili cioè con pochissime informazioni reali su quella persona perché dobbiamo sopravvivere semplicemente non abbiamo il tempo di prendere nota ok genna quindi anche se ho poche informazioni creo lo stesso un'idea su qualcosa mi sembra assurdo creare un'idea su qualcosa senza informazioni beh è esattamente così che fai il nostro cervello sopporta poco le ambiguità e ha la necessità di incasellare ciò che percepisce e meno informazioni possiede e più quell'idea sarà un pregiudizio cioè un giudizio frettoloso grossolano il pacco di tutto ciò è che i pregiudizi agiscono come delle lenti colorate che influenzano i giudizi successivi ogni idea che ci creiamo fa fatica a lasciare il posto a quella successiva soprattutto se si basa su quella precedente se ad esempio credi che un tuo vicino di casa sia maleducato perché non ti saluta anche quando scoprirai che è una persona molto timida potresti far fatica ad accettare che quel saluto derivi dalla sua timidezza invece di pensare poverino e timido potresti pensare eh che cazzo ormai ci conosciamo dai su sfigato salutami anche di fronte alle informazioni corrette l'immagine precedente fa fatica a modificarsi e anzi è un po' sporcata dal filtro dell'informazione precedente se mi segui hai già capito un po' dove voglio andare a parare perché si tratta dello stesso identico meccanismo top down di cui ti parlo da tempo e se mi hai seguito fino ad oggi sai che esiste una tecnica in grado di scardinarlo in realtà esistono due modalità di scardinamento del pregiudizio una è quella di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni su quella persona e quindi trasformare il tuo pregiudizio in un vero giudizio ma poi siamo davvero sicuri che quel giudizio sia reale? la risposta è no perché anche i giudizi più meticolosi possono essere inquinati dalle dinamiche che ti ho appena descritto dai pregiudizi precedenti quindi dal fatto di creare significati e collegamenti che non esistono per giustificare il nostro punto di vista ok genna ma vuoi dirmi quindi che anche i giudizi sono da abbandonare e come faccio a capire la realtà senza la capacità di giudicarla? no non ti sto dicendo che devi abbandonarti al non giudizio assoluto anche perché è praticamente impossibile a meno che tu non viva in un eremo in costante meditazione ma sto dicendo che anche all'interno dei nostri stessi giudizi ci sono degli errori errori dovuti dal fatto che dentro di noi creiamo mappe di territori che non descrivono mai e mai completamente il territorio stesso se da un lato il pregiudizio ti consente di risparmiare energia e sopravvivere dall'altro lato ti impedisce di conoscere il nuovo ed il diverso è qualcosa di molto sottile molto sottile ma particolarmente evidente soprattutto oggi nella nostra società immagina una persona settentrionale che in questo momento atterra sul mio blog una persona magari di Milano di Torino di Padova di dove vivo oggi si chiederà ma chi è questo tizio che lo scrive appena magari si mette lì a cercare il nome legge Gennaro e penserà subito a che cosa a Napoli con tutti gli stereotipi associati a questa città se è una persona che ama Napoli vedrà in me la furbizia la creatività la simpatia tipica dei partenopei se invece è come la maggior parte degli italiani penserà che sono una persona poco onesta un presuntuoso uno scansa fatiche ah sul presuntuoso ci ha beccato un pochettino eh sì perché i pregiudizi non si basano completamente sul nulla ma si basano un pochettino davvero su aspetti della realtà portati all'estremo e posso assicurarti che questa cosa è davvero sta davvero così personalmente me ne sono accorto prestissimo verso i 13-14 anni quando iniziavo a uscire con i miei amichetti in cerca di ragazze di turiste che venivano ad Alassio nel mio bel paesino di mare quando mi presentavo nel mio bel paesino dicendo piacere Gennaro partivano subito delle risatine degli sguardi un po' particolari qualcuno mi diceva addirittura dai su visto il mio accento mi diceva dai su non prendermi in giro dimmi come ti chiami in realtà partivo un po' in svantaggio rispetto ai miei amici lo avevo già capito dall'elementari grazie alla pessima persona della mia maestra dell'elementari che continuo a ringraziare perché senza tutte le vessazioni da parte sua probabilmente non mi sarei messo così di impegno a studiare grazie Sandra ah sì se proprio vuoi saperlo se credi che stia esagerando la mia maestra dell'elementari mi chiedeva spesso se a casa mia usavamo le posate oppure se mangiavamo la pasta con le mani giusto per dirti ok Genna mi sembra che ci sia qualcosa di tuo in tutto questo non penso che da nome si possa davvero partire con un pregiudizio così negativo ed invece sì caro amico mio chiedilo a chiunque si sia ritrovato nella mia situazione chiunque sia del sud e sia nato e cresciuto al nord con un nome prettamente del sud tipo Assunta Pasquale Calogero Carmine e magari vivi a Milano sei nato e cresciuto a Milano magari qui a Padova ora mettendo da parte questa piccola forma di razzismo cosa tuttora più che presente ciò che capita con i nomi è qualcosa di molto facile da capire e allo stesso tempo molto insinuoso visto che in una interazione le persone usano le poche informazioni che hanno per crearsi un'idea su di te il nome di certo già può dargli una grossa mano una grossa informazione se ad esempio uno ha il dente avvelenato contro i napoletani magari perché ha avuto una brutta esperienza con un esponente della campagna non appena sente che ti chiami Gennaro attiverà subito quei pregiudizi necessari a non ripetere la stessa cattiva esperienza quindi basta davvero una piccola informazione per far sì di attivare i nostri schemi personali che sono sia culturali quindi in base a dove sei nato dove sei cresciuto antropologici e sia di esperienza passata cioè se io sono appena stato tradito da una ragazza che si chiama Giulia e conosco una nuova ragazza e mi dice piacere Giulia è ovvio che attiverò un pochettino quegli schemi pregiudizievoli che ho appreso dall'esperienza passata dalla ragazza precedente ma forse i pregiudizi peggiori non sono neanche questi quelli dettati da una brutta esperienza o da poca informazione i peggiori sono quelli costruiti da altre persone cioè quando è un'altra persona a parlarti male di una certa classe sociale gruppo o singolo e tu accetti tutto quello che ti sta dicendo comportandoti di conseguenza questi pregiudizi entrano a pieno titolo nel campo della memetica cioè diventano convinzioni condivise su una certa fetta della popolazione e vengono trasmessi proprio come un virus un meme il messaggio che voglio condividere con te in questo periodo di grandi migrazioni e di terrorismo cosa che tra l'altro è successo numerose volte nella storia del vecchio continente è che nessuno è immune al pregiudizio fare i buonisti o gli illuminati è una falsa posizione per superare il pregiudizio servono conoscenza consapevolezza ed apertura mentale tutte caratteristiche di cui non siamo troppo provvisti dalla nascita per me crescita personale significa anche questo non solo motivarmi comunicare essere performante ma migliorarsi migliorando il mondo che abbiamo attorno in una sorta di spirale positiva di miglioramento che possa prendere e comprendere più aspetti della nostra vita anche questi aspetti sociali che spesso li vediamo lontani da noi ma di cui siamo imbevuti senza rendercene minimamente conto ok ragazzi credo di aver parlato a sufficienza soprattutto per la versione estiva del podcast e adesso voglio lasciarti ad alcuni consigli che riassumono un po' quello che ho detto fino adesso e saranno dei consigli molto importanti soprattutto se anche tu come me hai una posizione sul miglioramento personale simile a quella di psine bene per cui come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana primo il nemico numero uno del pregiudizio è la conoscenza più conosci qualcosa e meno puoi farti pregiudizi su quella cosa in realtà il titolo doveva essere l'ignoranza se conosci una persona diversa da te e la conosci davvero bene ti accorgi subito di qualcosa di straordinario che non siete poi così diversi che condividete piccoli e grandi problemi quotidiani e che spesso la pensate esattamente nello stesso modo meno informazioni hai e più lasci spazio al pregiudizio più informazioni hai su una qualche persona e più diciamo così si sgretola quello schema mentale pregiudizievole secondo tieni a mente questi schemi che tu sia colto meno che tu sia istruito oppure no che tu ti ritenga una persona aperta oppure no tieni conto del fatto che il pregiudizio si crea per un fattore evolutivo è uno schema automatico che scatta ci serve per sopravvivere per cui è molto più potente di quanto non si possa immaginare l'errore più grave da commettere è quello di pensare di essere immuni a questi schemi anche se sei un super praticante di meditazione devi stare ultra attento a questi schemi perché questi scattano comunque quindi terzo medita come ti dicevo in un podcast dedicato alla meditazione che salverà il mondo un bellissimo titolo la pratica della consapevolezza ha dimostrato essere capace di mettere da parte i pregiudizi e tutti gli schemi mentali purtroppo però si tratta solo di un effetto semi passeggero perché non potremmo vivere senza questi schemi mentali la meditazione non li mette da parte del tutto come tanti pensano ma semplicemente ti rende in grado di rendertene conto ti rende consapevole ti permette di avere quello spazio di riflessione che ti consente di capire se stai ragionando per stereotipi o invece stai raccogliendo informazioni utili per conoscere davvero quella persona o meno è la stessa cosa che succede quando conosci una persona magari completamente diversa da te ma che ti attrae magari una persona di sesso diverso o dello stesso sesso che ti piace e allora questa attrazione ti fa entrare in uno stato di apertura che ti consente di guardare quella persona non solo per quei tratti stereotipici che ha magari il colore della pelle la forma degli occhi il modo come si esprime ma per altri aspetti però purtroppo non tutte le persone ci attirano in questo modo per cui è sempre meglio fare un lavoro di pulizia di questi schemi attraverso la meditazione se non sai come meditare all'interno del quaderno degli esercizi ti linkerò come al solito il nostro report sulla meditazione e sappi che ad ottobre riaprirà il mio master in meditazione avanzata se sei interessato mandami un'email e ti invierò il link per poterti iscrivere alla waiting list sappi che sono già tantissime le persone che si sono iscritte quarto il cambio di paradigma la crescita personale in stile anni 90 sembra dirti fottitene del mondo perché tu da solo puoi cambiarlo solo se lo vuoi un messaggio fantastico fortissimo e bellissimo perfettamente in linea con lo sviluppo economico che ci ha dato tanta indipendenza e ci ha anche liberati dalle varie schiavitù della storia nonostante questo tutto questo sviluppo ci ha portato a pensare di dover combattere con tutto e tutti per sopravvivere cosa un po' vera ma non troppo sì perché ormai è chiaro che la nostra specie non è sopravvissuta combattendo con gli altri ma alleandosi con il prossimo e con l'ambiente che lo circondava per cui alleniamoci a questa visione del mondo quella della collaborazione e non quella del conflitto che sta portando alla rovina il nostro mondo il nostro mondo si è sviluppato non per competizione ma per collaborazione questo ormai lo dicono tutti gli antropologi tutti gli storici che si sono occupati di questo è chiaro che la competizione serve in determinati contesti ed in determinati luoghi ma noi non ci siamo evoluti per competizione per la legge del più forte ma ci siamo evoluti grazie alla collaborazione iniziamo a cambiare questo paradigma mentale e a vedere il mondo da questo punto di vista bene ragazzi allora so di non aver concluso di non aver esaurito tutto questo enorme argomento del pregiudizio anzi ti invito a farmi tutte le domande del caso tutti a chiedermi tutti i chiarimenti possibili su questo tema perché è vastissimo come ti dicevo in psicologia sociale sono stati scritti libri e libri hanno fatto esperimenti e sperimenti quello di Tashfel è solo uno dei più famosi anche se è uno dei più rappresentativi di questo mondo oggi in un contesto di grandi migrazioni di terrorismo dove siamo sempre più a contatto con il diverso il concetto del pregiudizio deve essere ben assimilato soprattutto su come funziona e su come possiamo iniziare a scardinarlo quindi fondamentalmente attraverso due aspetti attraverso la conoscenza quindi bandendo l'ignoranza su cose che non conosciamo e andando invece ad aprirci con curiosità attraverso l'apertura mentale della consapevolezza della meditazione che come ti dicevo è stata dimostrata essere in grado di smantellare i nostri processi di pregiudizio anche quelli più inconsci anche quelli più veloci ti metterò il link su quel bellissimo podcast dedicato alla meditazione che salverà il mondo bene siamo giunti al termine della 134esima puntata del podcast di Psinel come sempre ti invito a mettere il tuo mi piace su iTunes venire a fare questo piccolo gesto vieni su iTunes metti la tua review a 5 stelle e magari aggiungi una piccola descrizione di come Psinel ti sta aiutando o di come hai incontrato Psinel aggiungila e così raggiungeremo forse i 200 le 200 review abbiamo già superato i 200 mi piace su iTunes come sempre ti ricordo che se vuoi continuare a seguirmi nel modo migliore possibile scaricare il quaderno degli esercizi essere sempre aggiornato su tutto quello che succede su Psinel iscriviti alla mia mailing list lasciando la tua email all'interno del blog di psicologia neurolinguistica punto net e infine gli ultimi due socialini su quale puoi seguirmi il primo è Facebook la mia fan page di Facebook da cui ho fatto delle live e anzi ci sono le live vecchie puoi andartele a rivedere tranquillamente mettendo mi piace sulla mia pagina in modo da essere avvisato quando farò quelle nuove e infine il caro e vecchio odio vecchio nuovissimo snapchat mi trovi alla nickname Psinel bene siamo giunti al termine di questa puntata ti ringrazio per avermi seguito fino a qui ci sentiamo la prossima settimana un saluto da Gennaro Romagnoli di psicologia neurolinguistica punto net grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.